Immaginatevi di salire su un aereo per fare un volo di, che ne so, 5 o 6 ore. Immagino vogliate mettervi comodi, vero? Ah 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 ah, sbagliato. La persona alle tue spalle ha appena deciso di impossessarsi dei tuoi braccioli. In questo caso vedo soltanto una possibile soluzione, ossia aspettare che la persona si addormenti, toglierle il calzino e iniziare a ciucciare l'alluce. Salve splendori, io sono Tierless Raptor e vi do il benvenuto a questo nuovo video. Quest'oggi andremo ad agire ad uno dei subreddit più popolari della piattaforma, Mildly Infuriating. Subreddit contenente una serie di immagini che ad alcuni non danno fastidio, ma che ad altri fanno proprio salire il nervoso. E io sono una di quelle persone, perciò sarà un'enorme sofferenza. Prima di continuare con il video vi ricordo che tutti i giorni, tranne il sabato, alle 7 sono in live sul mio canale Twitch. Trovate il link all'interno della descrizione e nel commento pinnato in alto insieme a quello del mio shop ufficiale, nel quale sono disponibili un sacco di maglie e felpe in edizione limitata soltanto fino al 31 di agosto. E ora andiamo a farci del male. Oh, cosa stanno vedendo i miei occhi? Un bagno interamente rivestito di moquette, compresi i bordi della vasca. E sfortunatamente i miei poveri occhi non è la prima volta che vedono uno proprio del genere. Quando ancora vivevo in Irlanda sono stato a casa di un amico che purtroppo aveva la moquette in bagno, compresa la parte davanti alla doccia. Voi non avete idea dell'odore che c'era là dentro. L'unica cosa divertente è che potevi andare in giro come Spongebob. Oh mio Dio... Io non so chi sia l'animale colpevole di questo scempio, ma qualora uno dei miei coinquilini dovesse mettere in lavastoviglie una tazza o un bicchiere rivolto verso l'alto, io chiamerei la polizia e li farei sfrattare con effetto immediato. E se dovesse essere la mia ipotetica moglie chiederei subito il divorzio perché ho palesemente sposato la persona sbagliata. Mio Dio, come si fa? Ah yes, che belli i difetti di fabbrica. Io stesso lo sono, quindi li capisco. Però vi dirò, il fatto di avere due B sulla tastiera non mi darebbe così tanto fastidio. Tanto la tastiera non la guardo mai e nel giro di qualche mese le lettere solitamente si consumano. Tanto non è che se vai a premere sulla seconda B ti scrive B, ti scrive N. Incredibilmente questa cosa non mi dà affatto fastidio, anzi, sarebbe fastidiosa soltanto se avessi speso diverse centinaia di euro. Oh no, 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 no. No, mi rifiuto. Vi prego ditemi che non è vero. Però non c'è motivo alcuno perché il pallino bianco debba stare 2-3 pixel più in basso rispetto alla zona centrata. Signor Discord, la prego, la scongiuro, cambi questa cosa e la sistemi. Un like uguale una firma sulla petizione per le notifiche centrate. Sono stupido io o non vedo nulla di sbagliato in questo caprisonne? Oh, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Inserire qui la cannuccia con la freccia che punta verso il basso, ma il buco poi non è allineato con la freccetta. Questo è forse il post più adatto a descrivere il subreddit. Inezze che non dovrebbero dare fastidio ma invece ti uccidono l'anima. Che poi ho appena realizzato. Si chiama Capri Sun in inglese, Capri Sonne in tedesco, ma in italiano come si chiama? Sole di Capri? Apparentemente si chiamano Capri Sun pure da noi, come non detto. Ok, di chi è la colpa in questo caso? È l'architetto? È il geometra? È il ragion... Chi è? Perché non è ancora stato arrestato? Cosa c'era di così difficile nel fare la colonna della dimensione giusta? Ok, magari non era possibile perché poi non riusciva a supportare tutto il peso che ci ha caricato sopra. Ma a quel punto allarga il muro? Ah no, ma poi sei punto e a capo. Non so voi, ma se io vivessi in quella casa creerei una sorta di fake lucernario in modo tale da coprire questo brobrio. Arrestate quell'uomo. Su questa immagine sono molto combattuto. Perché da un lato capisco il voler vedere il tombino perfettamente allineato con i pua bianchi. Però se la vernice si deteriora così facilmente a quel punto, meglio così che non avere proprio il pua. Certo, potevano anche ridipingerlo, eh, ma chi sono io per dire alla gente come si vive? E comunque non è neanche l'unico tombino, guardateli in cima. Perché? Anche questa è una di quelle cose che non dovrebbe dare fastidio, perché in fin dei conti è una banana tagliata per lungo. Però mi infastidisce da morire e non so quale sia il motivo. Oh, perché dovete creare tutte queste immagini totalmente cursed? Ehm, qualcuno mi aiuta a capire quale sia il problema in questo mobile? Le maniglie potrebbero sembrare diverse, ma in realtà sono la stessa. Soltanto che quella in alto è più usurata di quella in basso. Ah, vuoi vedere che è il cassetto che non si chiude come si deve? Non è così difficile. Basta risistemare le cose dentro il cassetto, che magari c'è qualcosa che blocca la chiusura. Se ancora non si chiude bene, bisogna togliere il cassetto e provare a rinfilarlo meglio nei tasselli. E se neanche questo funziona, l'unica cosa che rimane da fare è bruciarlo e fare un falò. Non vedo dove sta il problema, è semplice come soluzione. Ah yes, abbiamo delle biciclette in saldo. Da 4.700 dollari a 4.699,95 e da 3.200 a 3.199,95. Allora... Questo mi fa più ridere che altro. Trovo molto meno fastidioso pensare a 5 centesimi di sconto su una bici di 5.000 euro, piuttosto che andare in un negozio in cui il prezzo scontato è più alto di quello originale. Almeno questi non ti truffano, vogliono soltanto attirare la tua attenzione. Interessante, un blister con 7 pastiglie e una per ogni giorno della settimana, che come ben sappiamo è composta da lunedì, martedì, domenica, mercoledì, giovedì, sabato e venerdì. Perché non segue l'ordine giusto? Qual è la ragione? Che in realtà volendo una sorta di ordine lo segue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Magari girando il blister c'è il logo della compagnia farmacea... Che ne so io. Spero che l'effetto delle varie pastiglie non cambia e che non debbano essere prese con un determinato ordine. Altrimenti sai quanta confusione, è un disastro. Chiedo umilmente, veni, ho avuto un piccolo errore di sistema, mi sono dovuto rebuttare. E mio Dio quanto mi dà fastidio questa cosa. Quando vivevo in Irlanda andavo sempre a fare la spesa alla Tesco, che a un certo punto ha deciso di rifare il design dei propri prodotti. Che sono quindi passati da questo a questo. Gli scaffali erano una cessata devastante. Oh no, oh no. Chi è che ha creato questo abominio? Chiudete subito la fabbrica! Questa tazza è fastidiosa per ben due motivi diversi. Uno, il manico non è allineato con la stampa. Due, non è neanche perfettamente in verticale. Realisticamente se fossi ospite a casa di persone e mi servissero questa tazza, gliela sbatterai per terra. No, non è vero, lo berrei senza neanche rendermene conto. Ma odierai per sempre alla persona se me lo facesse notare. Hmm, che situazione complicata. Devo finire un disegno e mi manca da riempire l'ultimo spazietto. Lo faccio di verde-giallo o di giallo-verde? Ma soprattutto, perché si chiamano verde-giallo e giallo-verde quando sono palesemente giallo e verde? Non creare più confusione di quanto le persone abbiano già nel cervello. Ma soprattutto, immaginatevi una persona daltonica che deve scegliere uno di questi colori. Come fa? No, vabbè, chi è l'animale che ha fatto questa cosa? Perché? Ma why? C'ha il sacchettino da 13 biscotti e tu devi selezionare quanti ne vuoi, uno per uno. Se mi ritrovo davanti a questa schermata, io col cacchio che gli ordino i biscottini. Vi attaccate. Non ho voglia di poccare il mio telefono 13 volte in più del dovuto. Ehm, qualcuno mi può gentilmente aiutare? Non capisco dove sia il problema in questa orribile, orribile parete. Per quel che mi riguarda già il pattern da sole, ma è l'infuriating. Ma seriamente non mi sembra che ce ne sia una storta o che ci sia qualcosa di particolarmente sbagliato. Ah, l'ho trovato. L'ho trovato, è perfettamente al centro dell'immagine. Vi dirò che considerando quanto faccia schifo questo dannato pattern, si maschera anche abbastanza bene, nel senso che riesco a non notarlo guardando la parete. Fastidioso? Sì. Mildly infuriating? No. Questo invece mi fa reggiare un facton. Maledizione. Se io compro un succo da 2 litri, non voglio aprirlo e doverlo finire tutto quanto in una seduta. Posso godermelo pian piano nel corso di diversi giorni? No. Cosa fai in questa situazione? Lo versi in un'altra bottiglia, ma se non hai altre bottiglie, te lo bevi in ex. Alla goccia e non ci pensa più nessuno. Minchia, sai che mal di pancia con 2 litri di succo da lancia in ex. Mmm, interessante questa collezione di giochi per Xbox 360. Avrei soltanto un appunto. Cistina immediatamente fuel. È un errore di stampa e la copertina è storta oppure è volutamente rovescio rispetto a tutti gli altri giochi? Perché se è volutamente rovescio sono dei dannatissimi animali. Leggendolo dal lato giusto c'è scritto 73A senza stanghetta ti rovescia. Che odio, che odio. Però è almeno sull'inordine alfabetico. Qui siamo in una situazione simile a quella delle piastrelle di prima, però in questo caso mi dà abbastanza fastidio. Perché è letteralmente una singola piastrella in tutto quanto il piazzale che è girata di 90 gradi. Avete presente quando in Minecraft provate a creare un pattern con la glazed terracotta? Ecco, questo qua è lo stesso risultato ma nessuno ha rotto il blocco per ripiazzarlo dritto. Probabilmente era a fine giornata e non ce la faceva più e ha detto Pfff, fuck it, torno a casa vado a riposarmi. Da un lato lo capisco anche però... Immaginatevi di salire su un aereo per fare un volo di che ne so, 5 o 6 ore. Immagino vogliate mettervi comodi, vero? Ah 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 ah, sbagliato. La persona alle tue spalle ha appena deciso di impossessarsi dei tuoi braccioli. In questo caso vedo soltanto una possibile soluzione, ossia aspettare che la persona si addormenti, toglierle il calzino e iniziare a ciucciare l'alluce. È esagerato definire questa casa come la peggiore mai costruita? Perché vi giuro ha un sacco di difetti, le tre finestre non sono allineate, non hai spazi dove mettere i piedi, praticamente sei dentro un murato vivo. Chi ha costruito questa casa probabilmente l'ha progettata su Minecraft. Probabilmente appartiene a una di quelle persone della generazione. Eh ma io la casa me la sono costruita da solo. Eh bella merda zi. Ed ecco spiegato perché i miei genitori non mi hanno mai fatto prendere le caramelle dei distributori. Ci scommetto tutto quello che volete che la persona responsabile di questo era appena stata licenziata. Perché nessuna persona al mondo, neanche la più stupida, penserebbe di mettere l'intero sacchetto là dentro. A meno che non esca il sacchetto mettendo dentro l'euro, in quel caso top. No bro, no, 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 eh. Mi dispiace un sacco per te. Una volta mi è capitata una cosa del genere e non avevo neanche l'apri scatole. Di fatto ho dovuto accoltellare la lattina finché non si è aperta. Da allora ho sempre un'apri lattina in casa. Il colore a cera americano made in Mexico. Questo mi fa ridere però. L'unica cosa frustrante di questa cosa è la terribile scia di colori che lascerebbe questo colore a cera. Tutto quanti impiastricciate bleh. E qui cosa... Allora, piano, non ho la patente. Siamo ad un incrocio e non posso andare né a sinistra né a destra, quindi devo andare dritto. Ma dritto ho il divieto di acce... E quindi cosa faccio? Sembrano anche strada senso unico, quindi non posso manco fare invece... Dove vado? Splendori questi sono soltanto alcuni dei post sul subreddit mildly infuriating. Nei commenti suggeritemi altri subreddit a cui reagire e noi ci vediamo in live questa sera alle 7. Non mancate.